A scuola di legalità, studenti del territorio hanno incontrato la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. La Questura di Monza e dell'Abrianza ha aperto le proprie porte alle ragazze e ai ragazzi dell'Istituto Professionale per i Servizi Adriano Olivetti di Monza per un incontro formativo sulle regole di sicurezza dell'ambiente stradale, oltre che per far conoscere loro il mondo della Polizia di Stato da vicino e in particolare della stradale, della scientifica e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la visita presso la sala operativa della Questura. Un'iniziativa che, oltre ad avere un importante significato educativo, mira a rimarcare la vicinanza della Polizia di Stato e i cittadini ai loro bisogni, rafforzando il senso di inclusione, prossimità e solidarietà che ogni giorno le poliziote e poliziotti tentano di trasmettere attraverso il loro impegno quotidiano. Anche il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, in sinergia con l'Ufficio Scolastico Territoriale, ha promosso una serie di incontri con le classi quarte e quinte delle scuole superiori Brianzole nell'ottica di favorire la cultura della legalità, della diffusione dei principi costituzionali di base, nonché per ridustare i compiti istituzionali affidati alle Fiamme Gialle. Gli incontri, che proseguiranno fino a marzo, hanno già interessato gli istituti Vanoni di Vimercate, Parini di Seregno, Olivetti di Monza, Morante di Limbiate e Gandhi di Besana.